Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuovo video a tema Acquisti Harry Potter. Ho acquistato un paio di cose, ne ho preordinate altre e in questo video vi voglio parlare anche dell'arazzo che c'è alle mie spalle, visto che mi avete inondato di commenti e di messaggi privati per chiedermi dove io abbia preso quell'arazzo. Quindi risponderò anche a questa domanda, ma prima di cominciare vi ricordo che su Pampling, utilizzando il mio codice sconto 7Potter, avrete il 20% di sconto su tutti i vostri acquisti e su tutto il catalogo Pampling. In questo momento Pampling sta anche attuando diverse promozioni molto molto interessanti e quindi sotto trovate il link. Detto questo, prima di cominciare con l'unboxing a tema Harry Potter, che poi unboxing è un po' sbagliato, visto che non c'è nulla da aprire, le cose sono già aperte. Ma intanto voglio aprire queste due scatole che mi sono arrivate da Amazon e che mi sono state inviate da Oki, che è un'azienda che mi ha sempre fornito diverse cose che mi sono tornate molto utili per avviare, per mandare avanti il mio canale, ad esempio il supporto per la mia videocamera e di Oki, o ad esempio il microfono che tengo qui davanti a me e di Oki, come tantissime altre cose che utilizzo quotidianamente. Quindi in questo caso Oki mi è venuto in soccorso e mi hanno inviato questi che sono dei cavi per iPhone, sono dei cavi di tipo Lightning. E questi mi sono molto molto utili perché sono dei cavi da 2 metri, quindi molto più lunghi del normale e sono anche telati, ricoperti di nylon e quindi molto più resistenti e, cosa ancora più interessante, sono a 90 gradi. Cosa vuol dire? Che il cavo non è perpendicolare all'iPhone, ma gira, fa un angolo di 90 gradi e quindi si può anche tenere, ad esempio, sulla scrivania tranquillamente senza averlo tra le gambe. Io lo trovo molto molto utile. Questa confezione ne contiene 2 e naturalmente esiste anche per altri tipi di smartphone, altri tipi di attacchi e trovate il link sotto in info box. Mentre questo qui è sempre un altro aggeggino di Oki che è molto molto utile. Ne ho già uno, ma me ne serviva un altro per collegarci il Mac e altre cose da ricaricare. Si tratta di un hub USB con 6 porte, 2 rapide e 4 normali, però la cosa interessante è che da questa parte ha un cavo che va attaccato al muro e poi da questa parte invece possiamo attaccare i nostri cavi USB. Quindi serve anche come prolunga. Se voi magari siete sul divano e non avete dove attaccare il vostro cavetto USB, si può attaccare questo alla presa dell'elettricità che avete vicino al divano nel muro e poi andarci ad inserire tutti i cavi fino a 6 per poter usare magari tablet, smartphone, computer, tutto contemporaneamente e avere tutto sotto carica. Quindi questo qui veramente è molto molto utile, consigliato e trovate tutto sotto in info box. Ma passiamo adesso alla roba potteriana che so essere quella che più vi interessa. E ragazzi, sono tornato ad acquistare su Aliexpress. Ho acquistato diverse cose, non è ancora arrivato tutto, quindi probabilmente arriveranno altri video più avanti, ma mi sono già arrivati due pezzi che mi sono tornati molto utili e che assolutamente vi consiglio. Se mi seguite da un po' di tempo ricorderete che avevo un dubbio enorme. Cosa utilizzare per rappresentare Harry all'interno degli Horcrux? Io fino a poco tempo fa utilizzavo la bacchetta, visto che possedevo già la coppa di tasso rosso, possedevo già il diario di Tom Riddle, il medaglione, tutte le altre cose, ma non sapevo come rappresentare Harry e quindi la bacchetta mi era sembrata la cosa più intelligente da mettere lì in mezzo, anche se non era proprio tanto semplice metterla esposta. Ma ecco qui che adesso entra in ballo Aliexpress, che è un sito cinese che invia cose a bassissimo costo anche in Italia. Per arrivare la roba impiega almeno due mesetti, tre mesetti, a volte neanche arriva, però poi in quel caso si può tranquillamente chiedere il rimborso. E ragazzi, girovagando durante la quarantena su Aliexpress, ho trovato degli occhiali, degli occhiali che erano uguali a quelli di Harry, perlomeno molto molto simili. Tempo fa esisteva una versione di Noble Collection, degli occhiali di Harry Potter, ma sono molto difficili da trovare e in ogni caso molto costosi. Io invece, per meno di due euro, che naturalmente vi linkerò sotto in info box, ho acquistato, ed ho già ricevuto in un imballo pazzesco, degli occhiali, che sono dei veri occhiali, una vera montatura in tutto e per tutto, e che è molto molto simile a quella di Harry. Eccola qui. Si tratta di questi occhiali qui, che sono degli occhiali tondi, che al momento sono anche un po' impolverati, ok? Sono degli occhiali tondi, le lenti in questo caso sono in plastica, ci sono anche i supporti per il naso, e a tutti gli effetti una vera e propria montatura, che adesso io vado ad indossare, così vi faccio anche capire un po' le proporzioni. Eccomi qui con la montatura stile Harry Potter. Ragazzi, forse è leggermente più grande del previsto, magari quella di Harry era leggermente più piccola, ma devo dire che per meno di due euro, questi occhiali qui, poggiati vicino agli altri Horcrux, fa la sua bella porca figura. Quindi io ve li straconsiglio, costano pochissimo e adempiono perfettamente al loro dovere, quindi li trovate sotto in info box. Ma Aliexpress non è solo fonte di oggetti di scena e di repliche, ma è anche fonte di tantissimi supporti per la nostra collezione. Io in passato ho avuto bisogno di supporti per mettere in esposizione, ad esempio, il diario di Tom Riddle, ed ho acquistato un trespolo di plastica, dove si va a poggiare solitamente i piatti decorati, ma io invece l'ho usato per poggiare il diario di Tom Riddle. In un altro, ad esempio, ho poggiato la fiaschetta di Malocchio Moody, e mi era rimasto solo un cruccio, quello di non sapere come esporre le collane appartenenti alla mia collezione, perché nel mondo di Harry Potter ce n'è davvero tantissime. Abbiamo, ad esempio, la Giratempo, ma abbiamo anche la collana dei Doni della Morte, quella che Hermione indossa durante il matrimonio di Bill e Flair, abbiamo il ciondolo di Grindelwald, ma ce ne sono tantissime altre. E quindi non sapevo mai come esporre queste collane. E mi è venuto un lampo di genio. Non è che su Aliexpress posso trovare anche supporti da gioielliere, visto che c'è qualsiasi cosa. Ebbene, ragazzi, sì, su Aliexpress ci sono supporti per orecchini, supporti per collane, per anelli, abbiamo anche supporti per le tiare, ad esempio, abbiamo qualsiasi cosa. Io ne ho acquistati un po'. Me ne è arrivato ancora solamente uno, ma non vedevo l'ora di mostrarvelo, perché è costato un euro, super giù, forse anche meno, intorno ai 90 centesimi, e si tratta di questo qui. Questo è un supporto da gioielleria per collana. È una sorta di piccola cunetta, di piccola collinetta, in vellutino nero. Dietro è vuota, perché nella parte cava va inserita la collana, e qui sul davanti, invece, va in esposizione il ciondolo. Ci sono due fessure qui nella parte superiore, dove va incastrata la collana. Adesso di questo vi metterò il link sotto in info box, ma ne esistono tantissimi altri, di tutti i tipi, tutte le forme, tutti i colori. Io ho acquistato anche un portorecchini, e tante altre cose, quindi, man mano che arriveranno, ve li farò vedere. Questo qua vi mostro subito come funziona. Qui ho la collana con il ciondolo dei doni della morte, che tengo poggiata semplicemente sulla mensola. Ma, mettendola qui, su questo supporto, e fissando le due estremità della collana, nelle fessure, e poi andando a mettere tutta la collana all'interno, ecco che questo è il risultato finale. Si può andare semplicemente ad esporre così, vicino ai libri, vicino ai vostri pezzi da collezione, e sicuramente viene esaltato molto, molto di più il pezzo. È molto più carino, da vedere, è molto più semplice da gestire, visto che le collane, quando le metti vicine tra di loro, tendono ad ingarbugliarsi, e poi, diciamocelo, la catenella tutta torcigliata, buttata lì vicino al ciondolo, non è che sia proprio sto gran bel vedere. Quindi, devo dire che questa mi è sembrata la soluzione migliore. Sono molto, molto soddisfatto di questo articolo. Qui è presente anche una piccola clip, sempre di colore nero, che serve ad agganciare, eventualmente, solo il ciondolo, qualora non ci fosse la catenella. Quindi, hanno pensato davvero a tutto. Io, probabilmente, di questi ne ordinerò altri due o tre. E, ragazzi, devo dirvi anche che questo, non ha impiegato tantissimo tempo, mi è arrivato nel giro di circa 3-4 settimane. Quindi, neanche più di tanto, molto meno dei tempi standard di Aliexpress. Io queste cose le ho acquistate durante la quarantena, ero convinto che non sarebbe arrivato nulla, che i tempi sarebbero stati molto più lunghi, a causa di tutti i vari confini bloccati, ma, invece, le spedizioni dalla Cina, sembrerebbero essere partite sempre regolarmente, quindi, fino ad oggi, mi è sempre arrivato tutto. Ragazzi, adesso passiamo, però, a quello che c'è alle mie spalle. Ultimamente, da quando siamo stati in quarantena, che il canale ha avuto una leggera impennata, ho ricevuto tantissimi messaggi, che mi chiedevano informazioni, sul mio arazzo. Chi mi segue da tanto tempo, sicuramente si ricorderà, ma, per i nuovi, ve lo vado a specificare. Ragazzi, si tratta di un arazzo che io trovai all'interno di una Loot Crate di J.K. Rowling. J.K. Rowling, in collaborazione con Loot Crate, ha creato una box, che arriva ogni due o tre mesi, se non ricordo male. Io acquistai le prime tre o quattro, ma, poi, a conti fatti, non era conveniente. La roba che si trovava all'interno di questa box, non andava mai a superare quanto si andava a spendere, visto che costava circa 50 euro una box, inclusa di spedizioni. Allora, io, dopo due o tre box, ho smesso di acquistarle. E, sul canale, trovate i video unboxing di queste box. Io adesso vi metterò nelle schede qui sopra il video relativo alla box che conteneva l'arazzo che c'è alle mie spalle. In molti mi chiedono quanto costa, dove si può comprare. Ragazzi, questa era semplicemente una pashmina, era una sorta di fular, che loro hanno inserito come oggetto esclusivo. È prodotto da BioWorld, che, di solito, si occupa di repliche a tema Harry Potter, e si trovano spesso e volentieri in vendita su EMP. ma il fular che trovai all'interno della box, questo che vedete alle mie spalle, che copre semplicemente il televisore, quella è la mia TV, ma ho messo sopra questo fular per evitare i riflessi delle luci che tengo davanti a me, anche perché mi è sembrata un'idea carina. Io devo dire che l'avevo sottovalutato, avevo messo da parte questo fular e non ci avevo fatto più di tanto caso. Ma, da quando lo uso come mio sfondo, mi avete suscitato molto interesse nei confronti di questo arazzo, tra virgolette, e, infatti, visto che tanti mi chiedevano dove sarebbe stato possibile acquistarlo, ho fatto un po' di ricerche e ho visto che si trattava di un oggetto esclusivo Loot Crate, quindi non esiste in vendita da altre parti e non esiste in vendita neanche sul sito Loot Crate. Era semplicemente un oggetto limitato a quella box. Ora, l'unico modo per reperirlo qual è? È quello di trovarlo da privati, cioè da persone che hanno ricevuto quella box e che lo stanno rivendendo. Io mi ho visti davvero pochi in vendita e quelli che ho visto erano tutti su eBay. E devo dirvi che, con mio grandissimo stupore, il prezzo è attorno ai 100 euro. 100, 120, addirittura alcuni lo vendono a 150. ma devo dire che il prezzo medio è 100 euro, che secondo me sono tantissimi. Si tratta comunque di un oggetto ufficiale, ha il cartellino Harry Potter, Warner Bros., tutto sotto licenza. Capisco che è un prodotto particolare che potrebbe anche andare incorniciato, io non ho dove metterlo, anche perché la parte che si vede qui nel televisore è semplicemente la parte centrale, ma è ancora più grande, visto che va a ricoprire anche una parte posteriore del televisore e poi pende dai lati. Quindi è abbastanza grande come razzo, è ben fatto, è molto molto sottile e sicuramente prima di incorniciarlo andrebbe intelaiato con una struttura nera al di sotto, magari un pannello di colore nero e poi agganciato sopra il foulard e magari fatto incorniciare. Ma per il momento mi va benissimo così, lo uso come sfondo e sto vedendo anche che riscuote un buon successo. Bene, detto questo, altra alternativa per questo foulard sarebbe quello di acquistare sul sito di MinaLima la stampa dell'Arazzo, sicuramente è molto più piccola, si parla di una cosa del genere e in quel caso costa attorno alle 20 sterline, poi ci sono anche versioni più piccole di cartoline, eccetera, eccetera, lì andiamo attorno ai 2-3 euro. Ma ragazzi, queste sono scelte vostre. Bene ragazzi, fatemi sapere sotto in infobox cosa ne pensate dei miei acquisti, del mio preordine, dell'Arazzo, di tutto quello che volete. Mi raccomando, mi trovate su Instagram Antonio.seria per qualsiasi dubbio, informazione, collaborazione, qualsiasi cosa, mi trovate lì. Mi raccomando, sotto trovate in infobox tutti i link anche al mio negozio Amazon Tema, Nerd e Harry Potter e poi naturalmente scatenatevi nei commenti, iscrivetevi al canale e condividete il video con i vostri amici. Detto questo, io chiudo il becco e noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità. Ciao! Ciao!